Nel carcere Terramano di Castrogno sono al momento 47 detenuti positivi al Covid, un numero che con ogni probabilità è destinato a crescere, in vista del nuovo screening che verrà effettuato nei prossimi giorni. Oltre ai detenuti si sono registrati casi di positività anche tra gli agenti penitenziari. Intanto dopo il violento episodio di sabato sera con sette reclusi che per protestare contro l'isolamento hanno devastato telecamere e impianti di illuminazione, il presidente della giunta regionale Marco Marsilio in una nota ha espresso solidarietà agli agenti di polizia penitenziaria che chiedono, visto la delicata condizione, la rimodulazione e il trasferimento di alcuni detenuti in altri istituti penitenziari. Dopo i fatti violenti di sabato scorso all'interno del penitenziario di Terramano-Castrogno pare tornata la normalità. Dopo accurate indagini e individuati i facili ronosi che saranno denunciati dall'autorità giudiziaria, ci aspettiamo il deciso intervento del provvedore regionale amministrazione penitenziaria dottor Cantone affinché punisca severamente questi detenuti appicando loro il 14 bis, ovvero il carcere duro. Attualmente risultano positivi 47 detenuti e 19 agenti di polizia penitenziaria. Considerato l'alta contagiosità di questo virus, si sospetta che nei prossimi giorni ci sarà una paralisi di tutte quelle attività di sicurezza e trattamentale. Quindi lanciamo un appello a Sua Eccellenza il prefetto di Terramo affinché convochi urgentemente un tavolo tecnico dell'ordine della sicurezza per prevedere e scongiurare questa situazione. Altresì invitiamo l'amministrazione penitenziaria a trasferire con urgenza almeno 50 detenuti, tra cui i più riottosi, affinché si creino quei spazi all'interno della struttura dove contenere e ubicare i detenuti che si sospettano saranno positivi.